A 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, assassinato nella notte tra il 1 e il 2 novembre nell'Ido di Ostia nel 1975, l'Aquila Film Festival ha voluto ricordare l'autore di Casarza attraverso due dei più grandi studiosi dell'opera del regista scrittore, Italo Moscati e il professor Angelo Moscariello, in un incontro di battito moderato dal giornalista Antonio Di Muzio, occasione per presentare il libro di Italo Moscati, Pierpaolo Pasolini, Vivere e sopravvivere. Un libro che ripercorre le tappe del poeta focalizzando l'attenzione sul periodo della contestazione alla fine degli anni 60, sulla presentazione di teorema alla mostra del cinema di Venezia, sui contrastati giudizi della Chiesa, sul rapporto con gli altri autori ma anche sull'isolamento di Pasolini. Il professor Angelo Moscariello ha introdotto la visione di Medea del 1969, interpretata da una grande Maria Callas, la donna che insieme con Laura Betti ha caratterizzato per vari motivi la vita di Pasolini. Nell'incontro si è parlato anche di questo rapporto con la celebre soprano greca. La Medea di Pasolini appare a temporale, una motafora della crisi del nostro tempo, dove la fine della storia e l'inizio della stessa coincidono, in un'epoca dove ogni valore sacro e le stesse basi dei rapporti materiali tra esseri umani e tra questi e l'ambiente si sono inevitabilmente corrotte. Quindi, in questo senso, la responsabilità di questa diseducazione è stata indubbiamente della televisione. Perché? Perché oggi il cinema è stato progressivamente divorato dalla televisione. Noi oggi non vediamo più film. Noi vediamo telefilm ingigantiti. Il gusto dell'inquadratura non c'è più. Il gusto della ricerca, del personaggio, del volto giusto, dei tempi che sono quelli poetici e non di una banale prosa di romanzo da due soldi, non è più possibile. A meno che non siano i giovani con molta forza, volontà e sacrificio a portare avanti questo tipo di via del cinema del futuro. E io credo che sono abbastanza ottimista perché penso che ci sarà prima o poi un nuovo Pasolini, forse riuscirà.